Hai capito perché io mi inghezzo? E poi dicono il prese del nevrotico, il prese del nevrotico. E meno male che ho questo carattere che io con la mia famosa risalta esorcizzo il fatto che sono incazzato. Perché se no veramente mi prendono per pazza a me. Ma a me non mi va che devono inculcare nei ragazzi questa mentalità del fatto che è questo trenino, questo trenino, via l'Augusto che è in Gessotto, che ce ne frega quelli, capito? E io sono buone e cari, ma anche io ho il mio limite di pazienza. Tu capisci, sei giovane, mi puoi capire, ti vedo molto attento. E usque tanto a buttare pazienza a me avanti, usque. Vabbè, lasciamo stare. Comunque io sto contento da un lato perché ho mio nipote che sta nella commissione del tramveloce. Nella commissione? Del tramveloce. E poi sono contento che tu che hai questa età e questa buona volontà, io ammiro i ragazzi come te, che si fanno chilometri e chilometri un giorno per andare a offrire queste Bibbie a scopo benefico. No, no, guarda direttamente che queste Bibbie qua la vende, questo è stato 150 milioni a lire, poi è molto speciale, ha caratteri grandi per bambini e anziani e se vogliamo anche per presi. Vabbè, comunque tu lo fai benevolmente? Eh come no, è chiaro. E allora a scopo benefico, che ti frega.